Nel 2008 sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo ospedale San Marco nel cuore di Librino, sui terreni di Mario Ciancio, costo dell'opera 140 milioni di euro. La posa della prima pietra è avvenuta alla presenza dei massimi rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni, passando ad esponenti di primo piano della politica di centrodestra e centrosinistra. E' l'esordio dell'assessore alla sanità Massimo Russo, che dopo la giudicazione della gara taglia i posti letto. Verrebbe da dire ridagli questi posti letto, il problema non sono meno o più posti letto, il problema per i cittadini è una sanità che funziona, prestazioni di qualità, prestazioni in sicurezza, prestazioni appropriate. Il resto lasciatecelo organizzare a noi. A posare la prima pietra è Raffaele Lombardo, che assume un impegno sulla data di ultimazione dei lavori. Dalle nostre parti un traguardo non da poco, fra 38 mesi, così consentirà di toccare con mano questa idea, questo sogno quasi. Da quel momento sono trascorsi più di cinque anni, i lavori del nuovo ospedale dovevano essere ultimati entro il 2011. Ci sono ben 510 giorni di ritardo. Siamo andati a visitare il cantiere per conoscere le tempistiche e scoprire i segreti della nuova struttura. Stiamo andando verso l'ediporto, è uno dei punti più alti di quest'area, in quanto l'edificio è stato concepito per non impattare molto sull'ambiente circostante. Questo edificio finalmente si realizza grazie al coraggio di due imprenditori, l'ingegnere Bosco e il dottore Costanzo, che con le loro aziende, in particolare la Uniter e ancora di più la Tecnis S.p.A., hanno avuto il coraggio di assumere questo appalto in condizioni anche abbastanza difficili, in quanto è un'opera complessa, è un'opera che viene data ad un prezzo molto competitivo e quindi è già in corso di realizzazione e ha ben avviata per esso l'ultimata, speriamo, entro metà del prossimo anno. In corso d'opera voi siete stati costretti ad adeguarvi a nuove direttive? Proprio come dice lei, la direttiva non è una semplice direttiva, è una legge regionale che, ripeto, avendo fuso le due aziende, avendo imposto un certo numero di posti letti per aziende, ha costretto l'azienda Policlinico a determinare di ridurre gli originari posti letti, che erano 720 in questo ospedale, a ridurli a circa 480. Questo ha comportato la redazione di una perizia di variante abbastanza complessa, perché poi è stata anche l'occasione di adeguarla a normative che sono intervenute e quindi poi la costruzione ha avuto una piccola pausa del resto e ora c'è la ripresa perché per effetto di un atto aggiuntivo che abbiamo firmato con l'azienda solamente due mesi fa a gennaio è stata pianificata l'ultimazione per metà dell'anno 21. Il primo edificio che viene nominato edificio A, il suo pregio consiste in questa bellissima facciata in vetro, che è una facciata ventilata dal punto di vista tecnico, la sua funzione è quella di contenere gli sprechi termici ed energetici. Quindi assicura una ventilazione e una migliore coibentazione degli edifici. E' quindi un miglior comfort interno e un migliore spreco di energie in termini di condizionamento dell'interno. Questo è l'ingresso principale dell'ospedale, da qui si vedono chiaramente i tre corpi di cui facevo riferimento la volta scorsa. La parte ospedaliere è questa che già vediamo quasi perso che completa nelle facciate esterne, mentre l'ultimo edificio è quello che è stato più interessato dalle variazioni, in quanto è l'edificio multifunzionale dove ci sono tutta quella serie di servizi. Anche questo però ci approssimiamo per poterlo finire velocemente. I cittadini che entreranno per usufruire della struttura ospedaliere troveranno una segnaletica, un percorso molto accessibile, molto visibile e molto induibile, in quanto praticamente l'ingresso è costituito da un grande corridoio che ora vediamo, che viene chiamata Hospital Street. Da questo grande corridoio, seguendo l'opportuna segnaletica, si può andare a tutti i servizi essenziali che oggi una struttura ospedaliere deve necessariamente dare e sono i poliambulatori, sono i laboratori per le analisi, le radiologie, nonché poi ai livelli superiori le degenze e quindi andare a trovare i propri parenti ammalati. Lungo questo asse, diciamo che serve da penetrazione nella struttura, in quanto la struttura è molto estesa, stiamo parlando di quasi 120 mila metri quadrati di struttura destinata a tutte le funzioni ospedaliere, lungo questo area ci sono una serie pure di piccoli servizi che renderanno più gradevole, diciamo, la visita. Una grande galleria. Questo sarà il cuore dell'ospedale? Sono banche, ricezione, accettazione, c'è anche parrucchiere e altre cose. E quindi queste sono tutte attività che non si erano mai viste in un ospedale? Certamente, e qui anche un applauso ai nostri progettisti che ci hanno coltivato, che hanno voluto concepire l'ospedale non come un puro luogo, diciamo, in cui purtroppo si è solo ed esclusivamente ammalati, però si viene anche per incontrarsi con parenti e amici e, diciamo, nel frattempo che si vanno a trovare i propri, diciamo, familiari, ovvero si soffriscono dei servizi giornalieri, diciamo, ospedalieri, degli ospedali o dei sargeri, diciamo, ecco, intrattenersi per... Sarà possibile fare un po' di shopping? Beh, non proprio, non vorrei che si assimilasse a una galleria commerciale, però è un luogo di ritrovo, insomma, un luogo potrebbe essere un luogo di ritrovo. Questo appuntamento lo possiamo prendere, questo impegno, con la gente per l'ultima azione di questo ospedale? Certamente, anche se, diciamo, i lavori pubblici hanno procedure complesse, articolate, diciamo, che sono commisurate alla complessità delle opere e per cui bisognerà aspettare il collaudo, gli accreditamenti e altre cose, quindi poi il resto dipenderà dall'amministrazione pubblica e non solo dall'impresa, perché bisogna sfatare il luogo comune che le imprese debbano fare tutto. In verità, ci sono molte altre cose che devono fare gli enti pubblici e spesso non si fanno. A questo punto non ci resta che attendere, ma molto presto torneremo sul posto.